Dopo due anni di grande amore è giunta al termine, come un fulmine a ciel sereno, la relazione tra l'attrice e l'imprenditore. Novità nella vita privata di Claudia Gerini. La famosa attrice romana è tornata single. È finita la sua relazione con Simone, imprenditore 50enne. A dare l'annuncio è stato il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato anche le foto dell'uomo in compagnia di un'altra donna. Simone è stato infatti pizzicato a Formentera con una misteriosa mora il cui nome sarebbe Fabrizia. I due sono stati paparazzati tra baci e abbracci nel mare delle Baleari. La passione è alle stelle tra l'ex fidanzato di Claudia Gerini e la nuova fiamma. Al momento non si conoscono i dettagli della rottura tra la Gerini e Simone. Non è chiaro quando e perché la loro liaison sia finita. Come sempre l'ex ragazza di Nonella Rai preferisce mantenere il massimo riservo sulla sua sfera intima. Di sicuro nessuno si aspettava una separazione così veloce. Insieme dal 2019, Claudia Gerini aveva parlato più volte di Simone come dell'uomo giusto della sua vita. Così giusto da pensare addirittura di diventare di nuovo mamma all'età di 49 anni. La star di Suburra e tante altre fiction e film italiani non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. L'attrice è già mamma di Rosa, 17enne nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, 11 anni, avuta dall'ex compagno Federico Zampaglione. Il rapporto con Simone sembrava qualcosa di giusto, perfetto, tanto che la Gerini aveva già presentato l'uomo alle sue figlie. Non solo, qualche tempo fa Claudia Gerini e Simone si erano concessi una vacanza insieme a Federico Zampaglione e alla moglie Giglia Marra. Una grande famiglia allargata dove tutto sembrava procedere per il meglio. E invece, come un fulmine a ciel sereno, qualcosa si è spezzato.